Giuseppe Musmarra è il direttore di Omni Roma, non è solo un poeta, ma è una persona di ampia cultura e ampia vedute. Che significa per te scrivere poesie? Che cos'è questo libro per te? E essere venuto qua. Io dico anzitutto questo, grazie per essere venuti. Di questi tempi avere un buon amico nell'albergo di Urno sinceramente è un affare per tutti. Credo che il senso di questo mio scrittarello sia quello di introdurre il più possibile degli elementi di verità e di assenza di fronzoli. Stiamo certamente vivendo in un mondo che è molto cambiato negli ultimi dieci anni e noi stessi viviamo in questo mondo con lo stesso habitus che avevamo 15 anni fa, 10 anni fa. e soltanto adesso stiamo comprendendo quanto sta realmente succedendo di straordinario, quanto il dramma di questi tempi di crisi sta incidendo sulle vite di ogni singola persona. E ho cercato semplicemente di tradurre tutto questo in versi, pochi, magari scarni, ma questo è il senso che ho voluto dare a questa mia piccola opera. Grazie. Grazie.